Mondiali, in Inghilterra questo gatto è virale, c'entra un giocatore della nazionale. L'Inghilterra si è serenamente qualificata agli ottavi di finale del mondiale in Qatar. Dopo l'ultima vittoria per 3-0 nel darby tutto britannico contro il Galles. Inghilterra impazzita per quel gatto che assomiglia a Filfoden Spazio allora alle cose frivole. Alle risate sui social e altre amenità. Come la foto cominciata a circolare su Instagram dopo il passaggio al turno successivo e riportata dal Suna, un gatto dalle sembianze umane. Qualcosa di impressionante per certi versi. Tanto da essere accostato, per espressività a Filfoden. Quel gatto ha un taglio di capelli migliore di Foden oltre manica si sono scatenati subito dopo il gol del talento classe 2000, Foden gioca i mondiali in Qatar. Quel gatto, se non altro, ha un taglio di capelli migliore di Foden. E ancora, Furden of Manchester City. Col gioco di parole Fur, ovvero pelo, pelliccia. Virgola.